Per il terzo anno consecutivo l'NBA sceglie Napoli come unica tappa italiana insieme a Torino del suo tour. Alla Rotonda Diaz sabato e domenica per tutta la giornata è dunque il momento dell'NBA 3X Tour, circuito europeo che permette ai cittadini di avvicinarsi al mondo della pallacanestro a stelle e strisce. Il lungomare di Napoli, che nell'ultimo triennio ha ospitato grandi eventi sportivi come la Coppa America, il Giro d'Italia e la Coppa Davis, torna ad affollarsi di sportivi. Testimonial di quest'anno è il campione NBA in carica dei San Antonio Spurs, Matt Bonner. La città è fantastica, tutti sono molto entusiasti, il tempo è molto bello e quindi è un weekend perfetto. Sono stato a Napoli nel 2003 quando giocavo a Messina, ho affrontato la squadra di Napoli e abbiamo perso. Invece nei giorni scorsi sono stato a Sorrento e a Positano per un tempo con la famiglia. La città ha risposto bene al richiamo dell'NBA, hanno dimostrato molto entusiasmo e credo che la città ha benefici nell'avere la presenza dell'NBA qui. Per tutto il weekend i fan potranno scattare foto e chiedergli autografi, oltre a giocare sul campetto allestito sul lungomare e cimentarsi in una serie di eventi collaterali organizzati dagli sponsor, come la gara da tre punti o quella delle schiacciate. Le squadre sono composte da quattro atleti e divise nelle categorie Under 12, 14, 16, 18 e Open. I vincitori della categoria Open sfideranno la prima classificata di Torino e chi si aggiudicherà il titolo di campione d'Italia dell'NBA 3X parteciperà alle finali europee di Londra.